Spagna con Easy Lady, il Crystal History delle 8, il numero di uomo qui in diretta su Crystal Radio. Good Morning Milano, sono le 8.09 di oggi martedì 16 aprile e ci hanno raggiunto qui con noi in studio i nostri ospiti di quest'oggi dell'Associazione Cittadini della Bovisasca, Guido Giazzi ed Emilio Cavalleri, buongiorno entrambi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, benvenuti. Allora, Bovisasca, andiamo lì vicino, intorno alla ferrovia, c'è poco da fare. Se si pensa alla Bovisasca, si viene subito alla ferrovia, no? Almeno io ho questa idea. Cavalcavia, sottopassaggi, ponti. Esatto, per chi non è pratico, diciamo che il quartiere è a nord di Milano ed è... Facciamo come si faceva una volta, no, una volta si faceva così, no, a scuola. Allora, la Francia confina sud con l'Italia e la Spagna e nord con... Ecco, allora, la Bovisasca confina con... La Bovisasca confina con la Bovisa. Bovisa, ok. Asciun, afori. Afori. Con la Comasina. Comasina, anche. Quartiere di Novate e Quarto Gero. La particolarità del quartiere è che nella Y, che si dirama tra le ferrovie nord, partendo dalla Bovisa, la Bovisa si divide in due rami diretti e noi siamo attraverso, in mezzo a questa Y. Faccio notare solamente che le ferrovie nord sono nate nel 1880 e come nel Far West la linea era diretta, non c'è nessuna curva. La strada è tutta in piano, quindi queste sono dirette. Infatti sono delle vie eccezionali perché raggiungono le varie città a nord in maniera rapida. Più rapida, dritta. Giusto, come Far West, come vediamo nei film del Western, infatti così. Bovisa Asca è però un quartiere bello vivo perché è subito un quartiere molto vissuto e popolare della nostra città, no? Sì, ha avuto uno sviluppo notevole dagli anni Sessanta fino a oggi. Noi abbiamo avuto la fortuna di viverlo perché praticamente viviamo lì dagli anni, fine anni Cinquanta e inizio anni Sessanta. Avete avuto la fortuna, ha detto, di vivereci sempre. Fortuna, sì. Non è una sfortuna stare in Bovisa Asca, no? È bello. No, no, è una fortuna perché è sempre stato un quartiere, come dicevi tu prima, vivo, ma anche pieno di risorse. Parecchio verde, è rimasto ancora parecchio verde e nonostante siano cambiate molte cose dagli anni Sessanta ad oggi, però è molto vivo anche dalle gente che è venuta abitarci. Ah, ecco, ecco. Però, insomma, diciamolo, non è conosciutissimo un po' questo quartiere, cioè vive un po' in ombra della Bovisa, che gli dà un po' anche… e poi soprattutto avete fatto, avete diramato, cioè nasce prima la Bovisa o la Bovisasca? No, senza più. Come etimologia? Cioè nasce prima l'uovo o la gallina qua? No, no, la Bovisa è senza altri rupi vecchi. Ah, ok, ok. Dimmi Guido. La Bovisa nasce dal fatto che c'è questa via Bovisasca, perché passavano le truppe romane e tenevano anche i buoi e tutto il resto. Quindi possiamo dire che è vero che nasce prima il quartiere da Bovisa, ma la parola Bovisasca nasce prima del quartiere da Bovisa. Sì, certo. Ecco, abbiamo diramato la questione. Faccio notare da un punto di vista storico che la Bovisa diventa fondamentale agli inizi del secolo scorso, perché la parte dell'industria chimica che nasce lì diventa più importante di tutta l'Italia. Tutto quanto, infatti, infatti. È stato il fatto che appunto però è poco conosciuto. Avete fatto però qualcosa di molto interessante per far tornare, diciamo, a parlare di Bovisasca e di farlo conoscere. Prima di tutto, in realtà, la vostra idea era quella di farlo conoscere a chi vive lì, giusto? Esattamente. Allora, prima di tutto, il primo progetto è stato quel libro che hai sotto il mano, che si chiama Bovisasca on my mind. Bovisasca on my mind. Dove abbiamo preso da Ray Charles il titolo. Infatti, te lo direi, anche la copertina fa molto, soul, anni cinquanta. Ci sono dentro, c'è la foto di una chiesa dentro, di legno, che potrebbe benissimo essere sotto, non so, ci si può essere scritto Chattanooga, Tennessee. Cioè, una cosa del genere, tranquillamente. Invece è la chiesa del Sacro Cuore, detta la baracca, ovviamente, del villaggio Bovisasca, non è Chattanooga, Tennessee. Su quella chiesa, che ormai non c'è più, ma era un simbolo, per noi era un simbolo, perché era il punto d'incontro dove tutti questi bambini si trovavano lì. La chiesa era aperta, era in legno, si entrava con le biciclette in chiesa. Ah, tutto male. E non c'era, non c'era niente, era proprio piacevole. Quindi, il primo è stato credo. Avete tempo a vederla, la baracca? Sì, sì. L'avete vista voi? L'avete vissuta. L'avete vissuta? L'avete vissuta? L'avete vissuta? L'avete vissuta? L'avete vissuta? L'avete vissuta? Ah, beh, insomma. Altro che cinema 4D o qualcosa di qui, proprio era super interattivo oramai. Allora, prima l'idea del libro, dove abbiamo chiesto alle persone che abitavano in quartiere se avevano delle foto particolari. E abbiamo trovato di tutto, immagino. E abbiamo trovato di tutto, ma stiamo ancora cercando, perché ci sono delle cose interessanti. Dove si trova questo libro, se qualcuno lo volesse? Lo può richiederlo a noi. Ok, quindi Associazione Cittadini Buvisasca, c'è anche su Facebook. Abbiamo un sito, quindi siamo organizzati da questo punto. Perfetto. Altro punto importante, questo ha creato un incontro, perché non si era mai parlato della storia del nostro quartiere. E la cosa che ha colpito sono state le persone che non abitano più in zona, che hanno cercato attraverso il libro i ricordi, hanno scritto, hanno parlato, eccetera. Quindi la volontà di cercare altre foto c'è ancora. Fatto questo, cioè abbiamo creato questo gruppo, faccio notare che l'Associazione Cittadini Buvisasca nasce nel 2000. Ok. Proprio per risolvere certi problemi pratici, eccetera. Ultimamente abbiamo cercato anche di fare altro allargando il nostro raggio di azione. Non solamente più i problemi tecnici particolari del quartiere, le strade, la viabilità, i parchi, ma anche cercare di capire se ci sono degli artisti in zona. E ce ne sono parecchi. Come in tutti i vari quartieri, ci sono delle personalità notevoli. E poi un altro incontro importante l'abbiamo fatto con le scuole. Con le scuole. Cioè voi siete andati a chiedere, a conoscere i giovani abitanti di questa zona e vi siete accorti che non ne sapevano niente. Cioè poveretti. Ma beh, c'è stato molto ricambio negli anni. Molta gente è arrivata dopo e ancora adesso arrivano famiglie nuove anche di estrazioni diverse, anche di nazionalità diversa. E quindi noi ci sentiamo un po' non in dovere, però insomma è giusto anche lasciare qualcosa a quelli che vengono, i testimoni. E quindi stiamo facendo proprio un lavoro tutti gli anni con le terze, le quinte elementari. Ecco. Proprio su questo. E da questo incontro, che adesso poi ci racconti meglio, nasce, pensate, un gioco. Ebbene sì, è nato poi un gioco, un gioco da tavolo, un vero e proprio gioco da tavolo. Burovis a scopoli, ok? Che si gioca con i dadi, con le cose, ci sono delle domande da rispondere. E che è, secondo me, molti di voi che sono in ascolto cadrebbero già alla prima domanda, ve lo dico. Perché non è per niente facile, divertente, ma per niente facile. Ne parliamo fra pochissimo, di nuovo qui in diretta con l'Associazione Cittadini Bovisasca, Bovisascopoli. E cercatelo perché è divertentissimo. Michael Jackson, black or white. Vi ricordo sempre che ogni volta che sentiamo Michael, più Michael per tutti. C'è sempre bisogno di tanto Michael Jackson la mattina, soprattutto alle 8 e 20 minuti qui su Crystal Radio. Good morning Milano. Ancora qui con l'Associazione Cittadini Bovisasca a parlare di Bovisascopoli. Ebbene sì, dopo che avete fatto appunto prima il libro Bovisasca on my mind, poi siete andati nelle scuole a parlare con i ragazzi, avete partorito un gioco. Adesso dovete raccontarmela questa cosa qua. Sì, praticamente è venuto fuori da un disegno fatto su una carta normale. Si pensava a un gioco simile a quello dell'OCA o di un giro del mondo, con la caratteristica di mettere in questo gioco tutte le componenti del nostro quartiere, tutte le zone caratteristiche del nostro quartiere. storiche, la scuola, la chiesa, il parco, piccoli particolari anche che fanno del nostro quartiere, magari non un quartiere storico come altri quartiere a Milano, però che ha la sua caratteristica, la sua voglia comunque di esserci, di contare anche qualcosa insomma. E quindi è un gioco, un gioco che però si fa proprio attraverso il quartiere, cioè un percorso. Adesso poi voi avete fatto una plancia con tutti i mappi volendo, si potrebbe tranquillamente giocare su una mappa volendo. E lo scopriamo man mano, tra parentesi, non l'avete fatto da sole, l'avete fatto poi con le realtà che esistono nel vostro quartiere. Sì, appunto come dicevo prima abbiamo creato un percorso attraverso il quartiere, passando dalla chiesa, dalla cascina, dalla chiesa di San Mamete, che è l'edificio più vecchio del nostro, più antico. Edificio storico della Buizascara. Sì, nel 1100. Ah beh, sono giù di lì. Sì, comunque l'idea era proprio quella, cioè il nostro pubblico erano questi ragazzi giovani che non conoscevano il quartiere. Quindi l'idea, l'esca, era quella di fare delle domande semplici, se possibile spiritose, però insegnare qualcosa che rimanga. Quindi c'erano alcune idee, alcune parti erano geografiche sulle vie, oppure i nomi delle vie a chi erano dedicate, oppure delle parole che ci siamo accolti andando a scuola i ragazzi non conoscevano. Piero, mi raccontavi quella del parco. Quella del parco, ad esempio. Il parco come si chiama? Il parco si chiama Walter Chiari. Ok, e giustamente tu hai detto, il parco Walter Chiari, dato per scontato che tu ti sapessero chi fosse Walter Chiari. Sì, a me non avessero visto un film. I ragazzi hanno detto, ah, me lo ricordo quando giocava nell'Inter, cioè hanno detto qualcosa del genere, più o meno. No, proprio, ci siamo accorti che c'era questo gap. Non sapevano chi era Walter Chiari. Ma non solo con Walter Chiari, anche la parola parroco, che noi avevamo per scontati, e abbiamo visto che le maestre hanno fermato e hanno detto, ma chissà chi è il parroco, e molti hanno detto... Ah, cioè non mi stessi chiedendo l'etimologia della parola parroco, non la so neanche io, devo dire la verità. No, dopo chi è il parroco? Esatto. Che cosa fa il parroco? Allora, da questo abbiamo cercato altro. Fa il paracaduto, qualcuno ha un paracaduto, avevano pensato. Una di queste domande sui negozi storici, c'era la cosiddetta posteria. Posteria, sì. E noi abbiamo fatto, al solito, tre risposte a questa domanda. Cos'è la posteria? La posteria, come abbiamo detto, è un'espressione. Ah, adesso posteria. Posteria. Potrebbe essere. Un negozio di igiene alimentari che vende di tutto, oppure un antico ufficio della posta. Ecco, ha vinto l'ufficio postale, immagino. Ma non è quello, sappiamo che deve essere quello. Però anche questo era importante per capire su che luoghi. Prima mi hai fatto una domanda, facciamola che adesso la so, posso rispondere bene. Quanto è lunga, ad esempio, la via? La via. Ovi Sascaro, no? E ci sono tre opzioni, leggiamo. Le tre opzioni sono 3.5 km, 5,6 km, oppure 8,5 km. 8,5 km l'avevo escluso perché è troppo lunga, forse neanche via Le Padova è così lunga. Però via, escluso. Invece questa è lunga 5,6 km. Però 5,6 km. Perché la via Bovisa ha scappato da Novate e arriva fino alla Bovisa. Alla Bovisa, infatti. Insomma, questa l'avrei sbagliata. Anzi, l'ho sbagliata perché fuori onda. Adesso la so se... Adesso me le impargo tutte così, se gioco con gli amici vinco a mani basse a Bovisa Scopoli. C'è anche da dire questo. Nella nostra idea è che le persone che giocano, se invengono in mente altre domande, noi abbiamo in mente di fare un'edizione ancora, come succede per i giochi più seri che ogni anno, ogni due anni. Beh, poi ci può fare anche Bovisa Scopoli versus Afro, ad esempio. Come quelli della Bovisa Asca invadono Afro. Lì comincio le lotte intestine. Perché insomma, questo qui diciamo appunto è il gioco dell'oca. Prendete sul punto da risico e potete fare dove conquistiamo il nord di Milano per Bovisa Scopoli Imperium, una cosa del genere. La cosa divertente però appunto è che man mano che sei davanti nel gioco io scopro dove vivo praticamente. Esattamente, è quello. Scopro dove vivo e apprezzo quello. Apprezzo. Esattamente. E poi ripeto, perché noi abbiamo trovato che questi ragazzi... E poi c'è il moderno e l'antico, perché c'è l'Uni Center, ad esempio, ho visto. Ma c'è appunto l'antica chiesa, ci sono le scuole, i passaggi a livelli che non ci sono più. Sapevano cos'è un passaggio a livello i ragazzini? Lo sapevano, per fortuna sì. Qualcuno fosse gioco ancora con i trenini magari. Questo anche per fargli vivere, oltre all'antico, anche il moderno. Perché loro tutti i giorni comunque vivono il tragitto per andare a scuola, per andare nel negozio. E quindi anche questo era importante per fargli capire l'importanza che devono stare insieme. la comunità, per queste cose. Ecco, volevo aggiungere una cosa che per me è importante. Perché parlando con questi ragazzi, andando in giro con loro, abbiamo chiesto quali sono le cose che amano e quelle che piacciono di meno. Quelle che amano è il verde, perché ce ne è tanto. Quello che non amano è che il verde spesso è sporco, perché la gente è molto ragazzo. Allora noi adesso faremo delle azioni, abbiamo già fatto lo scorso anno, lo ripeteremo adesso a maggio. Puliamo il parco insieme a loro. Ah, bene. Anche se pulire il parco non è così semplice. Eh no, immagino, immagino. Non è così semplice perché le maestre non vogliono responsabilità. Eh beh, se non va. Se qualcuno si fa male, oppure... Io vi faccio già i complimenti solo perché avete voglia di lavorare con le scuole, che è una delle cose che io non farei mai in vita mia. Perché sto anche con le scuole, è difficilissimo. È difficilissimo. Quindi complimenti davvero per quello che fate. Però tu sei abituato a questo mondo dolato. Eh, sì, 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 io non esco nel mio studio, basta. Io chiuso qui dentro, ascolto, io posso viaggiare con la musica. Quindi anzi, anzi, rimanete qui con noi. Perché adesso andiamo ancora con un po' di musica, ma poi torniamo qui perché io voglio sapere di più invece, proprio sull'associazione Cittadini Bovisasca, voglio sapere appunto a maggio quando farete questa operazione di pulizia del verde, ma poi anche tutte le varie iniziative che fate dal 2000, dicevi appunto, ad oggi, insomma, tantissime iniziative. La cosa bella è che dicevate che tanti di voi eravate amici da bambini, eravate. Sì, sì. Vi siete ritrovati adesso nel mezzo del cammino di vostra vita e avete deciso di darvi una mano insieme per il vostro quartiere. Beh, insomma, se non sono queste le belle storie di Milano, quali devono essere? Andiamo avanti con la musica, una piccola pausa e poi torniamo sempre qui con voi in diretta qui su Crystal Radio. Good morning Milano! Antonello Venditti ci vorrebbe un amico in versione, credo, strumentale, orchestrale, non ho mai capito bene. Grazie all'ufficio programmazione sempre per queste chicche, grazie mille. Come si chi fa contro l'alt cancio? Ah no, scusate, non niente, no. No, va bene. Le risate che sentite sono quelle dei nostri ospiti, di Guido D'Emilio, dell'associazione Cittadini della Bovisasca, che appunto ci hanno portato qui oggi, vabbè, il loro gioco Bovisascopoli, che potete trovare se appunto vi contattano, ma in realtà credo che anche il giro per la città si trovi, giusto? Sì, ci sono alcuni posti, alcune librerie. Ce n'è una in Cadorna, vi do questa, sono sicuro, perché l'ho vista in vetrina. È una libreria specializzata su Milano. Non me ne voglia la signora gentilissima che la gestisce, non mi ricordo il nome, però veramente fateci un giro e c'è anche Bovisascopoli. Ma non è solo questo che fate, non fate solo i giocatori di giochi da tavolo, anzi i creatori di giochi da tavolo, ma appunto fate tante attività anche sul territorio. A maggio, dicevi Guido, ce n'è una, no? Sì, no, noi abbiamo un collaboratore, un amico, diciamo, che è pompiere. Avevamo sviluppato questo tipo di evento che faremo il 5 di maggio, che è a Pompieropoli. Cioè, abbiamo invitato i pompieri a fare questo evento. Cioè, praticamente, è un evento mirato sui bambini, soprattutto, dove faranno delle dimostrazioni. È una manifestazione che dura tutto il giorno. E niente, stiamo organizzando questa cosa qui, che mi sembra abbastanza importante, ma non è l'unica che abbiamo fatto, l'anno scorso abbiamo fatto la... No, aggiungi solo una cosa, che li fanno giocare con l'acqua. Ok. E al termine ricevono un diploma dei Vigili del Fuoco. Quindi i bambini torneranno a casa. E niente, questo è uno dei tanti eventi che abbiamo fatto. Cioè, l'anno scorso è già due anni, diciamo, da quando praticamente abbiamo ripreso la cosa, oltre a Bovisascopoli, il libro, anche parecchi eventi di pittura, di mostre fotografiche. Abbiamo fatto persino un evento sui ferromodellisti, cioè sui trenini, diciamo. Dove ero io? Lo sono perso. Io sono un grande appassionato di tram e trenini. Anche questa è una cosa che è stata una scoperta anche per noi. Perché questa associazione è presente in quartiere da vent'anni. Ah. E noi non sapevamo nulla, o quasi. Perché sono nelle cantine di questa scuola, hanno il loro centro, le loro aree. Quindi quando noi le abbiamo scoperte, le abbiamo evitate, erano stati ben contenti di portare questi plastici che sono meravigliosi. E soprattutto si sono fatti conoscere anche dal quartiere, perché poi molti bambini si sono iscritti alla loro associazione e dove fanno diorami, fanno andare trenini e quant'altro, insomma. E questa è una delle tante cose che abbiamo fatto, oltre ad aver promosso anche dei giri intorno al quartiere, per far vedere le parti principali del quartiere. Adesso il prossimo incontro sarà a metà maggio. Il 18 maggio ci sarà la pulizia del parco. E chiaramente noi dell'associazione saremo presenti. E ci auguriamo che molte persone possano arrivare. Eh sì, adesso viene tutto, ma non è che potete far far tutto a loro? Cioè dovete darmi una taglia e una mano? No, l'idea è proprio questa. Il concetto base era questo, che se tu sei in un posto pulito, e te ne accorgi che è pulito, fai di tutto per tenerlo pulito. Quindi noi dobbiamo partire dai bambini, in questo caso qua, per cercare di educare i grandi che purtroppo a volte... Prendersi cura è fondamentale, nel senso che se tu ti prendi cura di un posto, e fai anche fatica a prendertene cura, poi magari stai un po' più attento a non prendertene cura, o se vedi qualcuno che non ne prende cura, magari dici, senti, ma perché non prendiamo cura insieme? Che è meglio? Altro progetto importante per il mese di settembre, all'inizio di settembre, abbiamo pensato di organizzare un concerto d'archi in una cascina, cascina che è del 1500, quindi abbiamo chiesto il permesso alle persone che abitano lì, se era possibile, e andremo a vedere il posto, quindi studieremo il posto e fare un concerto d'archi in quell'ambiente per me è particolare. In seguito, a fine settembre, ci sarà la festa del quartiere, dedicata al quartiere, con eventi, con musicisti, con spettacoli teatrali, e per la prima volta vorremmo coinvolgere dei ragazzi che fanno rap, musica a me è molto distante, però capisco che è importante che esista, e però sono contento, se vengono, ce ne sono già tre o quattro che hanno dato un'adesione, quindi sono dei ragazzi del quartiere che si esibiscono per il quartiere, bellissimo. Insomma, bello, bello. Tantissime appunto le iniziative che fate, tutte queste iniziative le possiamo trovare sul vostro sito di internet e sul vostro Facebook, dateci le coordinate per trovare tutto quanto. È semplice perché è www.associazionecittadini della Bovisasca.org, quindi ci sono tutte le informazioni. Su Facebook è la stessa cosa. Tante iniziative che fate, sarete anche un bel gruppo nutrito di volontari, immagino. Noi siamo circa 15, perché noi ci troviamo settimanalmente al martedì, oggi stesso, adesso le 10 e mezza, dove c'è un programma di lavoro e ognuno... Quindi non devo far venire in ritardo alla riunione questa mattina. No, ma ce lo facciamo prima, è tutto calcolato. Però tra i miei appunti che mi hanno segnato c'era quello che voi dovreste venire da noi a vedere il quartiere. Noi ci torneremo... Ma volentieri, guarda, adesso noi appena... Le nostre esterne, di solito, intorno al mese di giugno o luglio, noi cominciamo a fare le nostre esterne, quindi insomma sicuramente avremo modo di... anche perché appunto abbiamo già fatto un bel giro nella Milano degli antichi comuni. Bovisasca non era un antico comune e quindi non è entrato in questo giro, ma insomma lo facciamo entrare volentieri come quei famosi cento e passa toponimi che insomma riempiono la Milano di quartieri che magari a volte uno non conosce che invece appunto sono fondamentali. Benissimo. Quindi sicuramente con Good Morning Milano e con Milano News verremo in Bovisasca. Grazie davvero per essere qui con noi questa mattina. Grazie mille di tutto quello che ci avete raccontato. Ricordiamo appunto a Bovisascopoli il gioco che potete trovare dall'Associazione Cittadini Bovisasca e tutte le altre iniziative che trovate appunto sul sito e sulla pagina Facebook. Potete partecipare, anzi partecipate numerosi come si dice in questi casi, giusto? Esatto. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille e appunto portate allora in saluto a tutti gli altri dell'Associazione che insomma so essere in ascolto e so che insomma ci tenevano tanto a far raccontare da voi poter raccontare quello che fate tutti i giorni per il vostro quartiere e mi viene a dire anche per tutta la città di Milano perché non è solo per il vostro quartiere. Grazie mille davvero a Guido e grazie mille ad Emilio dell'Associazione Cittadini Bovisasca. Grazie mille. Andiamo con la musica. Adesso è il momento di Beyoncé con Texas Old M.